Ho voluto dare un'immagine alle politiche giovanili in modo che fosse l'inizio di un percorso di progettualità in favore dei giovani. Per tutte quelle attività che provengono dai giovani e avranno come oggetto i giovani, c'è la possibilità, una volta che si richiede il patrocinio del Comune, di apporre anche il logo delle politiche giovanili, proprio per dire che li sosteniamo in tutte le loro attività. Partiranno dei kit che sono composti da uno zainetto, appunto marchiati con il logo delle politiche giovanili. È previsto al suo interno la Costituzione, visto che finiscono 18 anni, è bene che l'abbiano in casa. Ci sarà un buono sconto da 5 euro da usufruire nel sito delle botteghe castiglionesi, visto che sono giovani e con internet sono più affabili. In Oltre ci è stato fornito il materiale dalla Misericordia di Castiglione Fiorentino, un'informativa sul servizio civile, visto che dai 18 anni è possibile aderire al servizio civile. Partirà entro la fine dell'anno un bando per favorire l'imprenditoria giovanile, quindi un sostegno con un contributo economico a favore di chi ha aperto nel 2020, con coraggio devo dire, veramente, quindi faccio un in bocca al lupo e complimenti per chi intenderà aprire nel 2021.